E' pronto pronto Paolo scusa ma o ti alleni o parli a cellulare? No come aspetta aspetta Si si va bene ci sentiamo domani Ok va bene grazie 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 No sono qui al campo pratica ad allenarmi Ragazzi mi telefonano in 50 persone Non lo so forse sempre lo stesso che mi chiama Mi vuole proporre non so qualche pentolone Non lo so da vendere Quindi mi disturba la pratica Ma ma guarda che c'è un drift fantastico Anche con il cellulare Sai che ne so qualcuno Adesso te lo faccio vedere Quindi ragazzi abbiamo tutti uno smartphone Quello proprio ce l'hanno tutti Quindi utilizziamo questo smartphone Per una pratica Una sessione di pratica intelligente Assolutamente si Cosa possiamo fare? Allora oggi vi diamo il primo esercizio smartphone Ok e sarà molto semplice Perché? Allora possiamo prendere lo schermo E simulare che sia la faccia del bastone Ah fantastico Quindi io la faccia del bastone Quando vado nel backswing La voglio vedere che punta un pochino verso l'alto Quindi prenderò il mio smartphone nella mano destra E cercherò di portarlo verso l'alto Quindi schermo verso l'alto Otterrò una faccia del bastone Squaro leggermente chiusa Un po' strong position Poi l'altra cosa molto importante È da questa posizione Cercare di riportare lo schermo verso il bersaglio Perché altrimenti In questa posizione la faccia rimarrebbe clamorosamente aperta In questa posizione la faccia clamorosamente chiusa Quindi l'esercizio è molto facile Mi metto in posizione Schermo al bersaglio Salgo Lo porto verso l'alto Schermo al bersaglio Ho fatto un release assolutamente perfetto ragazzi Quindi cerchiamo di utilizzare anche gli oggetti che usiamo tutti i giorni Per migliorare il nostro gioco Questo è importante Basta questo cellulare Oh scusa scusa hai ragione hai ragione Mi sono sconcettato un attimo Concentratevi sugli esercizi E mentre siete a cellulare Quando finite Tanto che avete lo smart Seguiteci sui nostri canali social Facebook Instagram Youtube E perché no visitate il nostro sito www.golfproject.it Per un golf perfetto E perché no